Il tuo affetto, Daniela, per Luca? Tanto affetto, tanto quanto lui ne ha dato, con la sua semplicità, con il suo modo d'essere, con il suo modo di vivere e di vedere la vita, che forse se seguissimo quella strada qualche volta ci sarebbero meno problemi tra le persone. È un messaggio che ci lascia forte a tutti noi. Ok, sì, certo. È un messaggio, non lo so, lui non voleva insegnare, non era questo che voleva, però lo faceva, lo faceva col suo esempio, per come era. Grazie. 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 Grazie.